La multicanalità, secondo me, ha un doppio significato. Il primo è che ci sono nuovi modi, strade e canali per connettersi con il consumatore. Il secondo è che in ogni canale ci sono tantissimi brand che cercano di attirare l'attenzione della gente. Se il Lata oggi è un commodity, l'unico modo di creare credenziazione e preferenza è la creatività. Creatività applicata alla verificazione in media, creatività applicata a un caso per esperienziamento vendita, una fissione, stampa, tv, ma soprattutto sul digital, dove la fantasia del contenuto a vaso posto e le false misurazioni ci hanno portato a un territorio ancora più sovrappopolato. Per quello oggi, più di prima, la comunicazione deve essere centrica. Noi siamo brand builders, il valore del brand deve essere il nostro unico compito. Un dato per concludere, le aziende online in Inghilterra questo anno hanno spesso più in brand building and advertising che in tutte le altre industrie. Stiamo parlando di 700 milioni di starline solo in tv. Se pensiamo che Google, Amazon e Facebook sono tra i maggiori investitori in tv, deve essere abbastanza chiaro che loro conoscono i limiti che i digital channels hanno per costruire anche i loro stessi brand. Grazie a tutti. Grazie a tutti.